eccoci qua sono veramente contento che siate qui con me oggi anche oggi mattina pomeriggio sera notte dai facciamo partire i secondi mi stai guardando ma mi stai ascoltando devi seguirmi ti vedo è adesso li faccio ripartire quando sei più attento metti giù il telefono e guarda tranquillamente questa chiacchierata secondo me diverti viviamo il presente e nel caso non dovessimo più vederci buon pomeriggio buonasera e buonanotte eccoci qua finalmente home sweet home sono tornato alla location originale ah infatti come stai meglio sì ho la schiena che un po tira e difatti sono ancora tutto flebato vedi qua ho ancora i tubicini però adesso questa settimana e poi passerà tutto stavo ridendo ridendo come un matto come guardavi l'intro della diretta eri a un certo punto mi stavo divertendo mi stavo divertendo mi sono messo a ballare a un certo punto è bello ok ci rilassiamo così allora diciamo a ripestino intanto grazie di essere qua ce l'abbiamo fatta anche noi dopo lungo penare però nel frattempo possiamo dire che hai superato un esame perché quando ero lì lì che ti ho chiesto di fare la diretta hai detto ma aspetta un attimo perché c'ho degli esami in corso ah sì 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 no ho avuto una sessione esami veramente particolare a febbraio quindi ho dato un po' di esami e adesso mi sono un pochino un po' più libera rispetto a prima quindi sono più ecco disponibile a parlare con il signore qui presente quindi le do la benedizione perché parleremo di luoghi sacri e non solo bene perfetto iniziamo a parlare intanto ti saluta Maurizio Contini da Roma allora che giorno è oggi Maria Cristina? ma Maria Cristina lo devo dire tutti i giorni tutti i momenti posso dire Maria posso dire Cristina ti chiamo Maria Cristina tranquillamente nessun problema va bene allora ti chiamo Maria Cristina che è troppo lungo se siamo amici ci sta cioè c'ha ragione no tanto mica siamo amici noi quindi io ti chiamo Maria Cristina come c'è scritto sotto allora inizio a usare lei a questo punto mi spiace mi scusi mi scusi vuole continuare il discorso che giorno è oggi? oggi è il 15 di marzo del 22 sono le 21 e 40 questa è la diretta numero 433 dall'inizio e la numero 68 del 2022 finalmente c'ho il mio aiutante tecnologico che mi dice i numeri in ospedale era un po' difficile complimenti questo numero abbastanza alto bene adesso quando troverai nelle tue iscrizioni le iscrizioni quando vai a fare i ripulisti storici che trovi 433 dici questo è il mio numero sarà il mio numero fortunato questo quindi al posto ecco come ci siamo conosciuti? oh guarda in pratica è perché grazie a mia madre mia madre sta un po' ovunque con diciamo gruppi di artisti di Salerno e quindi tra contatti vari anche a livello a questo punto nazionale si è arrivati poi all'incontro attuale insomma mia madre perché ha intervistato mia madre qualche tempo fa e quindi ti sei interessata penso a quello che lei ha prodotto insomma un po' a quello che lei fa in generale quindi poi non lo so ti sei interessato anche a quel che faccio io e quindi per vie traverse ho saputo il tuo studio che è una cosa fighissima per me con una pazienza tipo di quelli che fanno i puzzle da 10.000 pezzi robe così sì c'è è una cosa che in realtà allora il mio mestiere quello che sto studiando fondamentalmente è il restauro non so se si è capito studio in pratica il restauro all'accademia di belle arti di Napoli il mio quinto anno questo in pratica sì è un po' un lavoro certosino se vogliamo dire un po' più per i appassionati del settore della storia dell'arte no perché alla fine è un po' iniziato così cioè nel senso che anche un po' grazie a mia madre che sono entrata in contatto con questa questo mondo artistico poi il restauro mi è venuto in mente un po' a caso durante il liceo grazie a una professoressa di storia dell'arte mi ha fatto appassionare molto a Pollock Jackson Pollock e quindi l'action painting no quel periodo degli anni 60 del novecento 50-60 e in pratica diciamo che da lì in poi ho detto vabbè ma vorrei proprio approfondire di più il discorso sull'opera d'arte cioè perché comunque nei libri, nei manuali di storia dell'arte sai ti raccontano com'è formalmente l'opera cioè bene o male le tecniche esecutive come è stato realizzato però non è che si entra molto nel dettaglio poi ho detto vabbè però vorrei approfondire il discorso sai com'è approfondendo e vedendo meglio c'era questa cosa del restauro ora dove andiamo adesso a fare il restauro dopo il liceo e ci stavano questi grandi istituti l'ICR a Roma poi ci stavano più vici delle pietre dure a Firenze poi in effetti ci stava poi l'Accademia di Belle Arti a Napoli che poi in realtà è tutto da rispettare perché sono dei bravissimi docenti professori che non è che sono soltanto in Napoli sono anche comunque di altri posti a livello nazionale quindi vabbè approfittiamo diciamo quindi alla fine è un po' infatti dovuto anche colpa di mia madre quindi ci sta questo collegamento che hai fatto di interviste, di parlantine con lei e poi che sei arrivato a me poi io mi immagino te da piccola lei architetto ti portava in giro per chiese o comunque così e ti spiegava tutto e da bambino quando guardi all'insù vedi tutto molto più grande ma mia madre poi c'era così cioè nel senso tu hai ragione hai avuto un'immaginazione che ci ha zeccato perché in pratica mia madre poi sai come te l'ha spiegato mia madre lei si organizza mostre all'estisce poi mi dice ya Cristina accompagnami andiamo a vederci questa mostra andiamo qua quindi là e là c'è insomma un po' di curiosità in mezzo quindi diciamo sì un po' per colpa sua in certo senso stavi dicendo perché ti interrompo ho merito anche no aspetta che ti fermo perché intanto ti saluta Picchio Tenace Rock da Modena mi chiede come sto sto meglio oggi pomeriggio mi sono fatto la mia dose di farmaco quindi sono passato da tutti i giorni a giorni alterni quindi questa settimana vediamo come va e poi dobbiamo un po' recuperare tutto ti saluta anche il pubblico di Radio Stay Rock di Roma ti saluta Susanna Iovene dalla provincia di Treviso Castelfaranco Veneto ti saluta Alberto Gilli da un paesino qui in provincia di Bologna e dice restaurare è sinonimo di amare sempre grande bravo bravo mi fa piacere c'è dell'apprezzamento qui quindi a posto sono contenta no non mi ricordo la domanda che ti avevo fatto prima ti volevo dire ma la pazienza uno ce l'ha innata ti viene col passare del tempo o te la insegnano vabbè credo che dipenda cioè nel senso è una cosa tua caratteristica tu parti col fatto che sei paziente e d'altro canto invece se ti tratti di una cosa che comunque hai passione ti piace fare quella cosa poi a un certo punto cerchi anche di darti un po' un comportamento in un certo senso come posso dire nell'ambito del restauro comunque è importante che ci sia ecco quella sono io è importante che ci sia quindi questa la pazienza fondamentalmente perché sono lavori di restauro fondamentalmente che ci hanno una fase consecutiva uno dopo l'altro quindi non è che per esempio fai una determinata operazione e subito dopo c'è un risultato cioè nel senso è una cosa che bisogna monitorare quindi fondamentalmente i restauro in generale durano anche anni non è che sono cose che durano per mesi al massimo sono interventi mautenzione se durano per mesi però nel senso che alla fine i lavori di restauro lì ci vuole veramente molto tu sei il tassello finale secondo me di un percorso che c'è dietro chi studia se effettivamente il colore era quello lì come era composto perché poi ci sono alcuni affreschi che si vede veramente poco sì no in pratica infatti l'approccio al restauro fondamentalmente all'opera d'arte è un approccio quello più critico è un po' come ci dice il stesso beh Cesare Brandi è un teorico del restauro e quindi la teoria del restauro di Brandi è un po' la nostra pietra miliare questo un libricino che ho a casa e che è d'obbligo avere a casa questo libro del restauro e fondamentalmente diciamo l'approccio è quello critico cioè nel senso anche se tu c'hai un po' questa vena artistica interiore la devi un po' mettere da parte cioè non per una cosa non è un fatto negativo mettere da parte l'artista ma in realtà è un fatto in cui tu diciamo ti applichi nei confronti del monofatto e dici ok studiamolo partiamo da la sua tecnica esecutiva come è fatta come l'intenzione dell'artista quale è stato i materiali che ha utilizzato in un certo senso devi mettere un po' in secondo piano un po' come se tu fossi una specie di medico di chirurgo nei confronti dell'opera d'arte infatti è un po' questo un paragone che si fa solitamente con il restauro è simile infatti alla medicina ma ok forse qualcuno potrei far innervosire qualcuno probabilmente dicendo questa cosa per effettivamente così perché il monofatto è un po' come se fosse una specie di nostro paziente per cui noi dobbiamo metterci in secondo piano in un certo senso e quindi per proprio l'integrità di quell'opera d'arte e sì c'è un aspetto anche di studio dietro a questa a questa nostra azione del restauro c'è uno studio che comunque sia storico-artistico sia anche tecnico infatti come ho detto recentemente quindi che materiali abbiamo utilizzato e grazie anche a una maggior comprensione di questi aspetti abbiamo un aspetto documentalistico cioè nel senso una ricerca uno studio nei documenti tra gli archivi nelle biblioteche per capire un po' l'origine la datazione di quell'opera e quindi insomma collocarlo in determinato contesto cronologico e anche chi è associato perché la maggior parte dell'opera non sappiamo di chi sono cioè nel senso ok nei libri di storia dell'arte sappiamo gli artisti in generale però poi ci possono capitare anche delle opere di cui noi non sappiamo di chi sono di chi le ha fatte quindi c'è anche un lavoro di studio dietro queste nostre operazioni non soltanto questo abbiamo anche l'aspetto scientifico quindi la diagnostica tecniche diagnostiche che comunque servono ad analizzare la composizione chimica di quel materiale quindi ci serve anche per capire in che data ha quell'opera d'arte perché ci sono alcuni pigmenti per esempio nei affreschi come tu hai accennato precedentemente che sono tipici di quel determinato periodo storico o che possono essere materiali che sono invece di interventi precedenti di restauro quindi anche datare interventi di restauro precedenti quindi diciamo è un approfondimento che è molto più vasto molto più articolato quindi ed è un bene pure che ne parliamo perché diciamo la maggior parte delle persone il restauro lo sa per lo più perché è associato al restauro delle tele e dei dipinti su tela e tavole per esempio mentre invece abbiamo una vastità di materiali soprattutto in Italia nel territorio nazionale in italiano che sono per esempio possono coinvolgere materiali lapide gli affreschi infatti pure metalli leghe metalliche in generale libri pellicole fotografiche poi c'è anche le storie pellicole fotografiche dei mosaici quindi abbiamo una vastità di materiali da poter studiare analizzare e poi dopo c'è l'aspetto quello un po' più pratico ti faccio parlare perché in alcuni casi nella storia coprivano gli affreschi con la calce per mantenere comunque sotto l'opera d'arte in altri casi gustavano tutto ma ti sei formato? io sembra che so di tutto un po' però sai che guardando i programmi dedicati i documentari tale Voyager oppure quelli di Piero e Alberto io sono nato con quelli quindi ho ascoltato 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 poi la fotografia ha memorizzato il tutto e adesso in realtà con le dirette scardino tutte le mie domande le mie cose che ho perché io non so i periodi storici però proprio per dire o con le invasioni o così uno stato spaccava tutto piuttosto che chi veniva attaccato lo copriva per mantenere un qualcosa che un domani sarebbe riapparso sì sì no allora è una cosa che comunque è successa anche spesso infatti quei dipinti murali e quindi infatti sono situazioni in cui viene richiesto di effettuare un descialbo cioè nella rimozione comunque di intonaci che sono stati sovrapposti agli affreschi in periodi precedenti ma questo per diversi motivi come per esempio per un fatto che è cambiato il gusto e quindi alla gente non piace più quel dipinto murale se decido di ricoprirlo con un altro intonaco o con un altro dipinto murale che è al di sopra e quindi è capace che durante anche le operazioni dei dei scialbo comunque durante gli interventi di restauro si possono riscoprire anche al di sotto affreschi di epoche precedenti bizantine cioè insomma una serie di stratificazioni al di sotto oppure per esempio anche per cambi di destinazione cioè più che altro di funzioni di quel luogo cioè prima era quella stanza quell'ambiente aveva un determinato ruolo poi cambiando di ruolo di funzione allora si decido di ricoprire quel luogo salone a camera da letto non ci stava bene sì allora non ci stava per esempio ma che ne so un refettorio prima era un refettorio c'era un'ultima cena per dire poi cambia perché solitamente succede cioè i vecchi conventi poi diventano ambienti completamente differenti quindi possono essere anche che ne so delle caserme possono diventare delle caserme o comunque dei spazi un po' più diciamo un po' più laici ok quindi di conseguenza alla fine si ricopre quella dipinta murale oppure si fanno delle tinteggiature intorno a quella fresca conservandola per esempio dipende in quel caso in quel caso chi è che decide qual è l'affresco da conservare per dire se ce n'è uno sopra che comunque è tenuto bene ma sotto si scopre che ce n'è uno più datato chi è che dice cos'è la sovrintendenza è solitamente la sovrintendenza che dice queste cose perché comunque è la tutela infatti viene gestita le sovrintendenze quindi che sono un po' diciamo l'articolazione l'organo periferico del ministero dei beni culturali del MIC in realtà del ministero della cultura adesso e quindi diciamo che è un po' la sovrintendenza che lo decide però non è che se per esempio ho un affresco al di sopra di un altro la rimuovo l'affresco al di sopra che è stato quindi realizzato al di sopra di quell'altro precedente cioè è un po' articolato il discorso e per questa maggiore ragione abbiamo allora ne parliamo in un'altra diretta sì perché se no è un po' complicato poi solitamente vengono coinvolte più competenze non è che ci sono tanti restauratori ci sta l'architetto ci sta il chimico il biologo ci stanno i specialisti di quel periodo storico dipende intanto ti saluta Angelo Lazzano e Anna-Lisa Fontanella sono arrivati ciao Anna-Lisa ciao è più bello restaurare un affresco o restaurare una statua monumento ti dà più soddisfazione ma non ho una preferenza in realtà nel senso che dipende un po' dal non ho una preferenza veramente cioè a me piace lavorare un po' su di tutto anzi in realtà sul mosaico in realtà vorrei approfondire un po' l'argomento cioè il discorso sul restare in generale perché ho perlopi lavorato su materia della vita in questo caso infatti è una scultura ci abbiamo fatto le stoccature in quella foto infatti ho fatto un tirocinemus archeologico a Napoli per esempio quindi era quello più intervento in manutenzione dipende da quanto mi parla quell'opera in un certo senso però diciamo che mi piace un po' tutto se riesco ad applicare un po' i concetti teorici mi piace tutto quindi non ho preferenze specifiche poi qua invece la foto che stai facendo vedere è un po' la documentazione fotografica prima anzi dopo aver effettuato gli interventi di restauro sono delle sculture che poi sono andate in mostra al museo archeologico la mostra dedicata al giocattolo non so se hai sentito parlare di questa ah no ma tu sei bolognese ma di che vogliamo parlare comunque a Napoli infatti hanno fatto questa mostra sul giocattolo e quindi c'erano queste sculture che un po' richiamano il gioco in generale ci hanno chiesto di fare dei restauri comunque su queste sculture che erano conservate nei depositi e stanno effettivamente in situazioni abbastanza particolari questo pure qua diciamo è uno dei primi cantieri che ho iniziato con l'accademia devo dire la scettura di San Martino e diciamo in questi casi sono per l'uppio allora io ho scetto le foto dove poi ci sono molte persone intorno a me ma perché fondamentalmente queste sono delle operazioni che vengono fatte con persone cioè sono lavori che se li fai da solo veramente hai un po' di difficoltà se tu si trovi in un'equipe di persone o comunque anche di collaboratori di colleghi il lavoro diventa più semplice da portare avanti in questa cosa infatti c'è una scettura di San Martino come ho detto e su di uno stemma che si trova nel primo nella prima cortile quando si entra in una scettura di San Martino sotto ai portici ai porticati ci sono questa serie di stemmi araldici affisse diciamo sulle pareti stesse apposite e qui mi ha fatto dei lavori di pulitura con questi impacchi di polpa di carta cellulosa con della carbonate di ammonio un momento nel tecnico però insomma abbiamo fatto degli interventi di pulitura in quel caso e quindi molto intensi poi sotto al calore e a caldo e infatti questo è il risultato di quello stemma precedente che mi avevo visto questo è il risultato quindi il prima e il dopo in due settimane intense ho messo io e quell'altro ragazzo accanto a me e quindi per togliere queste croste nere che sono effettivamente delle sovrapposizioni di particellato atmosferico formazioni sul fatto di calcio c'è tutto una schifezza era una schifezza di sopra però poi adesso è diventato un pochino meglio ma dopo questi risultati comunque bisogna anche monitorare cioè non è che dopo aver finito l'intervento di restauro poi dimentichiamo il pezzo no ci dovrebbero essere anche le operazioni di manutenzione che dovrebbero essere rispettate almeno ogni sei mesi più che altro bisogna fare queste operazioni di manutenzione per mantenere quell'opera perché in realtà l'intervento di restauro di per sé è un atto finale cioè nel senso è l'azione un po' più aggressiva tra virgolette nei confronti dell'opera perché in realtà si preferisce fare un intervento di tutela o di manutenzione indiretta nel senso che si controllano i parametri ambientali in cui ci trova quell'opera per cercare di preservarla e di conservarla quando si arriva al restauro si diceva beh ok siamo arrivati proprio a situazioni un pochino più particolari più importanti un po' più su cui dobbiamo fare attenzione non so se mi sono spiegata in questo questo monologo quanto è pericoloso rovinare un'opera? mamma mia no più che altro ti dico quando iniziato a fare questi lavori avevo una paura assurda pure di mettere un po' di polpa di cellulosa che non è niente su di una superficie o lapide come visto precedentemente cioè nel senso all'inizio sai qual è il punto è che i primi anni di accademia ci dicono quanto sia importante il restauro quanto sia importante il manufatto artistico da un punto di vista proprio della sua tutela e conservazione della sua trasmissione al futuro e quindi ci hanno formati molto su questo aspetto a tal punto che quando poi tu entri in contatto con un'opera di questo genere dal punto di vista molto più pratico allora c'è un po' paura però alla fine bisogna un po' sconfiggerla questa paura perché poi non ci entrare mai in contatto diretto e però bisogna essere consapevoli al massimo di quel che si sta facendo di quel che si sta utilizzando e infatti anche il percorso accademico serve anche per capire fondamentalmente cosa stai facendo cioè nel senso che cosa che cosa stai utilizzando quale sostanze scegli è importante questa cosa fondamentalmente la formazione del restauratore particolarmente centra questo soprattutto quindi la consapevolezza di che materiale utilizzi soprattutto su un'opera d'arte quindi la domanda è molto particolare quello che hai fatto tu e quindi è molto pericoloso distruggere un'opera d'arte non vorrei consigliarla a nessuno però non lo fate intanto ti saluta Maria dalla provincia di Messina e poi Maurizio ti chiede nel togliere lo smog si consuma l'opera restaurata dipende quanto è intenso tra virgolette l'operazione di pulitura che stai facendo cioè nel senso ci sono anche in questo caso è saper scegliere la metodologia cioè o che tipo di prodotti utilizzare di sostanze ti dico te ne dico una c'è una sostanza chelante che si chiama EDTA cioè sarebbe etilendiamina tetracetica sarebbe tutto il suo nome e diciamo che è una sostanza che è particolarmente aggressiva su supporti come infatti il farmato di caccio quindi materiali lapidei in senso generale però detto così e diciamo che per come lo si applica è consigliabile per esempio utilizzarlo di per sé è un po' aggressivo però dipende da come tu lo utilizzi cioè dal contatto che tu decidi di utilizzare come ti puoi spiegare perché poi arriviamo nel tecnico è come utilizzi una sostanza che poi determina l'aggressività parla un tecnico perché tu devi parlare nella tua lingua se no comincia a darvi del volo guarda il concetto è dipende da come utilizzi quella sostanza perché in linea generale possiamo dire che sono sostanze che sono aggressive però dipende da come lo utilizzi cioè devi essere consapevole di come può reagire quella sostanza sull'opera d'arte poi ci possono essere situazioni in cui tu togli troppo vai oltre lo smog vai anche ad aggredire un po' la superficie lapidea però e quindi a maggior ragione tu dovresti stare attento a prescindere quindi è una cosa che in realtà è graduale cioè nel senso tu parti con una operazione di pulitura che diciamo non è che arrivi subito a essere aggressivo ma posso dire è graduale poi devi controllare un'azione anche di monitoraggio e restauro cioè non è che usi quella sostanza e sai già che va alla grande no devi verificare sono delle prove di pulitura vedi quale è quello più aggressivo rispetto ad un altro e fai delle scelte e poi dopo sono sempre reazioni chimiche alla fine sono gran parte sono reazioni chimiche sì gran parte lo sono gran parte poi ovviamente sono anche delle sperimentazioni su prodotti un po' più naturali ci sono per esempio anche si utilizzano dei batteri non so se l'hai sentito siccome ti sei anche interessato a dei programmi specifici ci fu un periodo in cui giravo poi sul Tg queste sperimentazioni sui nanobatteri non so se li avete sentiti i nanobatteri che servono che possono essere utilizzati sia nell'ambito della pulitura che nel consolidamento quindi in quel caso non si tratta tanto di reazioni chimiche quindi in quel caso più che altro sono dei batteri sono dei microrganismi che si servono fondamentalmente di elementi che fanno parte elementi chimici che fanno parte di quel degrado e nutriendo nutrendosene è come se poi reagissero e facessero alcune parte delle reazioni di interventi di pulitura e di consolidamento molto ho detto in maniera molto generale però insomma non sono soltanto sostanze reazioni chimiche fondamentalmente questo sì vuoi fare invidia a metterti in una posizione così che io mai ce la farò eh vabbè ma vedi che non è così comodo fare il restauratore comunque solitamente ti metti anche in situazioni abbastanza scomode in questo caso tipo per un periodo l'ho utilizzato sotto le ginocchia sai quelli i cuscinetti non cuscinetti quelli che si utilizzano anche per la palla a volo se li vedi però poi alla fine i risultati abbastanza non molto soddisfacenti perché poi li ho sfrantumati quei cosi stanno sempre in quella maniera comunque in realtà sì cioè in generale non si sta sempre comodi in situazioni di questo genere quindi eh per forza non puoi farci niente non puoi stare comodo comunque qua niente in pratica qua stavamo lavorando su di un mosaico un pavimento musivo alla reggia di portici e quindi quindi questa è una cosa molto bella l'Accademia ci mette sempre in mezzo a situazioni più pratiche più specifiche e quindi ci concede anche di lavorare in cantieri di questo genere quindi applicando la teoria fondamentalmente è una cosa che serve nel restauro perché se no diventa una materia molto teorica quindi diventa quando vogliono restaurare le chiese e rifare le pavimentazioni io ne ho viste qui da me e mi verrebbe da prendere le imprese e spaccare le macchine operatrici perché raschiano tutto il vecchio pavimento e mettono sulle vie e strellano con i nuovi togliendo tutta la storia sì ma infatti sono le imprese edilizie che fanno questi lavori e dico ma non è che sono molto competenti nell'ambito però dipende cioè è alla fine una cosa non so come funzioni bene queste situazioni cioè nel senso forse è un fatto di convenienza in quanto non so dimmi è un po' un po' perché poi nei vari mosaici o comunque nelle pavimentazioni delle chiese c'erano delle indicazioni che gli esseri umani attuali non riescono a più a identificarle perché sono estremamente ignoranti ma nella storia se uno va a vedere adesso piano piano sta tornando un po' al discorso del misticismo o il discorso del di tutto quello che era medievale o comunque per non parlare in un certo modo te lo mettevano sotto simboli no? solo che se adesso con il fai il bonus del 110 raschia tutto e poi dopo quello per me è togliere tutto quello che c'era di buono una volta comunque apro e chiudo una parentesi ma c'è ragione poi alla fine riguardo alle pavimentazioni come tu dici c'è poca attenzione cioè nel senso bisogna un po' sensibilizzare le persone anche a capire che anche quelli sono comunque dei manufatti artistici da conservare non è semplicemente come abbiamo anche detto all'inizio i dipinti su tele e tavole non ce l'ho con queste manufatti ok? perché sembra che voglio puntare contro questi manufatti ma in realtà vorrei dar valorizzare vorrei valorizzare anche altre tipologie manufatti come fatti anche i pavimenti le cosmatesche non so se nelle chiese soprattutto e poi sono molto importanti anche da quanto mi ricordo tipo evidenziavano anche i percorsi che dovevano fare i preti i vescovi all'interno delle chiese e quindi già questa è una cosa molto interessante oppure di per sé anche i pavimenti musivi in realtà non molte persone fanno attenzione a queste cose viene considerata anche come un'arte minore in un certo senso ma in realtà comunque se vai a Pompei e scavi di Pompei ne trovi tantissimi di questi pavimenti musivi quindi in realtà sono da tutelare e da valorizzare ancora di più qua in questa foto comunque mi trovo a Muso archeologico un'altra volta a Napoli e qua per esempio stavo facendo queste indagini diagnostiche su di un mosaico che infatti proviene dalla casa del fauno di Pompei e in questo caso infatti le indagini diagnostiche sono molto importanti prima di effettuare gli interventi di restauro un po' più sul pratico perché in questo caso possiamo capire e studiare ancora di più in maniera anche più approfondita le caratteristiche tecniche dell'opera d'arte quindi in quel caso basta utilizzare una specie di microscopio che è un dinolight si chiama che viene attaccato al computer e tu vedi un po' in maniera molto più diciamo zoomato alcune particolarità dell'opera tipo in quel caso stiamo trovando un blu egizio per esempio che ha occhio nudo tu non lo riesci a vedere però in quel caso diciamo all'epoca utilizzando il blu egizio miscelato con la malta quindi per cercare di creare tra le varie tessere uno sfondo colorato e quindi le tessere del mosaico no perché poi c'è questa cosa tra le tessere sono gli interstizi e nell'interstizio poi tu vedi la malta la malta solitamente o è il colore della malta quindi un po' bianca grigina oppure può essere anche colorata venivano colate con delle strutture di pigmento o veniva infatti miscelato la malta con cioè il pigmento con la malta e quindi dando quell'effetto più pittorico capito quindi vedi riesci a vedere poi queste cose cioè fare il restauratore poi diventa anche un fatto allegni un po' l'occhio come ti posso dire lo sensibilizza un po' di più un po' come tu fai il fotografo che capisci vedi più dettagli un'inquadratura un'ambientazione nel viso delle persone stessa cosa pure nel nel restauro vedi più dettagli su di un manufatto che metodo si predilige per un restauro pittorico conservativo o ricostruttivo no conservativo cioè si si punta tutto sul conservativo in realtà nel senso ricostruttivo la parola diciamo non so come neanche giustificartela cioè nel senso che in realtà il restauro serve molto ha un approccio più critico quindi in conseguenza tu devi pensare di conservare l'opera come è stata effettivamente realizzata e conservarla così com'è se lo ricostruisci fai una come dire inciampi su di una falsificazione su un potenziale falso ok quindi dipende il tuo approccio deve essere più critico cioè nel senso devi mettere in disparte il tuo il tuo aspetto come dire il tuo opinione personale di quell'opera devi essere un po' più oggettivo quindi è un aspetto più conservativo di conseguenza è una cosa che si è per lo più scusa è mercato di restaurare l'opera finisci finisci no no fondamentalmente già verso il novecento inizio del novecento si è un pochino più si è affinati questa sensibilizzazione la conservazione dell'opera è un aspetto più conservativo poi è mercato di restaurare opere dei maestri del novecento quindi contemporanei se mi è mai capitato ancora no però l'approccio è diverso rispetto a come lo si deve effettuare per le opere più antiche perché nel contemporaneo in realtà il restauratore deve essere in completa sintonia in un certo senso con l'artista sia ancora vivente quindi c'è bisogno quindi che vengano effettuate le interviste infatti per esempio quello che stai facendo tu il tuo lavoro è importantissimo per i restauratori quindi se succede che un'opera d'arte di qualche artista a cui tu hai fatto un'intervista si trova in situazioni particolari allora il restauratore dovrà venire a chiedere posso avere quell'intervista così che sai perché perché in pratica è importante rispettare il volere l'intenzione dell'artista per quell'opera perché può essere che ne so ci troviamo di fronte a un'opera che è particolarmente degradata è un'opera effimera che perché la maggior parte degli artisti contemporanei realizzano anche opere con anche con il cibo con tutto ciò che è effimera con i fiori con tutto ciò che si trova in natura e quindi possono diciamo subire un processo di degrado molto considerato rispetto a quando invece succede con le opere d'arte antiche quello però può essere parte dell'intenzione dell'artista quindi tu forse non dovresti neanche toccarla quell'opera cioè tu dovresti fargli fare la sua vita che sarebbe quello poi di un degrado di una morte insomma ti volevo chiedere ti è mai capitato di vedere un'opera e dire ma è talmente brutta ma perché io ci devo perdere il mio tempo qua guarda cioè ah non mi è ancora capitato però può essere cioè può arrivare questa cosa però in quel caso devo mettere da parte la mia considerazione e cercare di essere aperta nei confronti dell'opera d'arte per come si esprime quindi devo mettere da parte la mia soggettività quelle ma non per un fatto cattivo ok fa parte del mestiere affrontare un restauro affrontare un restauro di un dipinto a cui sono stati realizzati sbagli tecnici tipo sono state applicate i vernici o altro come si interviene per la pulitura allora la mia formazione è per lo più se materiale lapidei e sulle superfici decorate dell'architettura però in quel caso allora mi è difficile risponderti perché non ho mai lavorato su una tela o un dipinto su tavola e tela perché in realtà nell'ambito dell'accademia per come adesso la riforma sta diciamo organizzata siamo divisi per profili formativi quindi il PFP1 dove sono io è per lo più per materiale lapidei espliciti dell'architettura quindi affreschi dipinti murali contemporane e così via poi il PFP2 che è quello che intende anche questa persona che ha fatto la domanda quindi le FFP2 le conosco anch'io le FFP2 si mettono così allora guarda poi sono quelle le mascherine che conosciamo tutti quanti che poi già prescindendo le mascherine le maschere io vabbè questa è un'altra storia comunque però in quei casi comunque per vecchi vernici so che devono essere rimosse perché solitamente le vernici comunque sono soggette a ossidazione e quindi diventano gialle diciamo ingialliscono nel corso del tempo e quindi di conseguenza su quelle opere di tele diciamo di dipinti in generale ci deve essere poi un'attenzione perché queste vernici devono essere rimosse e poi essere applicata nuovamente una vernice al di sopra perché la vernice fa da protettivo da protezione cioè per il dipinto stesso allora a parte restauro io scatto anche fotografie giusto per dire vabbè ma nell'ambito del restauro diciamo che l'aspetto della fotografia è importante però poi diciamo a parte questo comunque mi piace anche fotografare in generale situazioni anche al di fuori dell'ambito del restauro ed è una cosa che per lo più ho sviluppato anche un po' dal liceo questa me la sono mantenuta nel corso del tempo qui mi trovo in quella foto mi trovo a Firenze nel senso quindi diciamo mi piace sempre comunque cercare di evocare sempre un po' quell'aspetto del restauro beh comunque insomma dipende sempre comunque da dove mi trovo c'è sempre comunque un qualcosa di architettonico scultura è sempre mia madre di mezzo vedi l'architettura predomina no comunque qua è Salerno per esempio che si piazza la Concordia però sai penso che potresti darmi un pulito conferma sono foto che questa non è che me la sono non l'ho programmata nel senso mi piaceva quella scena in particolar modo e l'ho inquadrata e basta quindi è una cosa che non è non mi obbliga alla fotografia nel senso se mi trovo con la macchina fotografica e mi piace quella scena in particolar modo la catturo e poi vuoi andare contro i tipici turisti con le macchine fotografiche che devono fotografare qualsiasi cosa quindi per esempio in un museo in una mostra in generale faccia attenzione a questa cosa vuoi cercare di evitare la fotografia eccessiva e quindi insomma io invece praticamente sono peggio di google fotografo tutti i particolari però non nel contesto ma singolarmente per dire un dettaglio di un vaso un dettaglio di un piatto un dettaglio di un mosaico sì sì è bravo perché è una cosa che anche io sto facendo ultimamente in questi anni all'inizio fotografavo l'insieme poi dopo sono un po' più spostata questa invece è una foto un po' più di tre anni fa forse prima del covid insomma sempre a Salerno e sì c'era un periodo in cui facevo per lo più foto ai ritratti poi dopo mi sono spostata sui paesaggi cioè è una cosa che non c'ha regola ha capito allora la fotografia per me non c'ha molte regole il restauro invece è una cosa molto più molto più accorta per quando io ne devo parlare quella fotografia è per lo più sulle foto che parlano capito quindi non è che devo tanto non ne devo tanto parlare in un certo senso posso dirti dove l'ho fatta poi non aggiungo niente alle tue parole proprio sì sì no ma questa è una foto invece un po' più per dire che mentre viaggio mentre mi muovo se capita quella scena che mi cattura un pochino di più io la colgo in una fotografia questa è una fotografia che la considero un po' minore rispetto alle altre però per far vedere che mentre io viaggio cioè mi porto anche ma gran parte delle volte non spesso la macchina fotografica e diciamo il viaggio fa parte anche della mia vita in un certo senso mi devo sempre muovere anche per restauro cioè mi devo sempre muovere quindi soprattutto poi per questo periodo di covid mi ha veramente bloccata in tutto e per tutto e sperando che poi ci rimuoviamo e lei è mia madre lì in fondo la sinistra è mia madre quella che ha causato tutta la mia carriera in pratica comunque è una foto che ho fatto a Padova perché lei mi non ho obbligato però mi ha scongiurato cioè mi ha supplicato di andare a Padova con lei per un evento insieme ad Angelo Lazzano e quindi con il gruppo Musca e insomma che hanno esposto la fila dell'arte a Padova e ho colto un po' sempre questa scena alla fine dell'anno scorso era che era ottobre novembre quando ho fatto la diretta da arte Padova eh sì capito era diciamo quel periodo là quindi mi trovo lì stavo là e sono andata nella capella di scrovegni perché dovevo è stato molto bello te lo sentivi proprio io vado a Padova e devo andare là io ho costrutto mia madre stavo facendo ritardo quella mattinata e ho detto mamma ma muoviamoci cioè dobbiamo andare là che poi alla fine come orari sono infatti molto più fiscali a Padova da quando rispetto a come sono qui al sud e ho detto mamma ma maggior ragione dobbiamo correre dovremmo andare beh questa è una parentesi così po' più simpatica però sì cioè se mi trovo in un posto mi devo approfittare sono andata a vedere pure la Basilica di Sant'Antonio da Padova eh per forza dovevo andare lì io ci sono andata c'è andata dietro la l'altare dove c'è il cosa c'è una reliquia non mi ricordo c'è la reliquia sì sì perché c'è una una cappella dedicata con un altare varie sculture e una una parete piena di ex voti no eh unici novembre bella grazie Angelo per ricordare la data no eh quindi sì no è bellissima quella Basilica veramente bella stribitosa concludo la serie fotografica con questa perché mi ha lasciato ti è piaciuta? sì questa è una foto molto vecchia questa quando stavo al liceo mi sento vecchio dicendo questo comunque eh questa sì perché c'era un periodo in cui facevo foto alle alle mie amiche eh quindi facevo questi questi ritratti le obbligavo ad uscire con me per fare queste foto e in particolar modo c'è questa mia amica che è molto fotogenica mi usciva bene sempre nelle foto e questo è un po' a caso cioè nel senso c'è un po' questa sfumatura un po' a caso che poi alla fine ho aumentato poi in contrasti diciamo chiaroscurali e mi è uscita un po' questa cosa un po' un po' aleatoria non so come puoi dire un po' non so come la vedi tu se ti piace un po' così io vedo una una cioè io vedo la scultura che stavi restaurando prima ah sì vedi qua ok va bene va bene ok è così c'è la scultura aspetta eh tu vedi qua la testa con è una donna con i capelli il braccio tirato su il corpo ah sì 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 ah che bello veramente non ci ha fatto gaccia lo vedi così sì 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 eh però che occhio eh no sì è vero bello anzi grazie per questa osservazione mi è stato piacere allora io non mi ricordo più le domande finali che cavolo ti hai preparato no perché all'ospedale ho fatto un casino non ci capivo più niente stavo mai c'è stato un momento che mi ero fatto le flebo adesso lo posso ammettere qua lo dico c'è stata una delle dirette non dico quali sono arrivata in diretta che avevo fatto la flebo troppo veloce e eh avevo un grandissimo mal di testa con la nausea quindi non mi ritornavo le domande da fare lasciavo parlare andavo avanti così però adesso recupererò il tutto però mi piace perché comunque la la vita va avanti no quindi è inutile stare a far vedere che tutta la figaggine del che tutti i giorni vanno bene no non tutti i giorni vanno bene se sono qua stasera c'è un motivo perché anche io ho detto ok mi tra virgolette mi abbasso a quello che non ho mai fatto in vita mia e cioè farmi fare una trasfusione di sangue perché ero messo steso e questa volta veramente nemmeno io pensavo di arrivarci a oggi però ci siamo e quindi festeggiamo e gli do un minuto di tempo per dire la prima cosa che ti passa per la testa e che vuoi lasciare agli altri la prima cosa che mi passa per la testa allora no in pratica invito tutti quanti a fare molta più attenzione a cosa abbiamo intorno a noi perché secondo me adesso già che stiamo molto attenti alle nostre cose che dobbiamo fare ogni giorno non guardiamo in alto cioè non guardiamo le pareti come sono degli edifici non accogliamo i particolari quindi invito le persone a guardarsi un po' di più al di fuori dei propri pensieri o del proprio telefono facendo un po' diciamo sempre tenendo conto del telefono di quanto siamo attaccati dei social in generale però di fare più attenzione ai particolari alle piccole cose che c'è quello importante secondo me e chiudo concludo progetti da domani al 6 di maggio al 6 di maggio perché il 6 di maggio vai su google e cercati cosa succede il 6 di maggio va bene allora comunque in prossimità del 6 di maggio a Maria Cristina che domande stai a fare? infatti faccio più domande a me stessa che tu a me comunque che devo fare? faccio un sacco di cose apprezzo all'academia adesso devo stare nell'ultimo anno quindi al 6 di maggio sto comunque contento a studiare andare avanti in Nitro per Napoli quindi adesso sto progettando ancora la mia vita cioè sto costruendo la mia vita quindi al 6 di maggio mi hai fatto una curiosità ma che c'è il 6 di maggio? ti devo cercare su google che devo fare? prega ti guardi dopo adesso tocca a te fare una domanda a me ah va bene cosa che ti ha interessato di più del mio discorso e sono stata chiara? se ne vuoi ti do altre dritte se ne vuoi cosa mi è piaciuto? no no il fatto che hai risposto a tutte le domande come che io fossi un professore che ti interrogasse no? e poi il fatto che sono riuscito a farti delle domande particolari come quella della copertura della calce quelle lì che riesco ancora a stupire i miei ospiti con domande fatte totalmente casualmente io sembra che so tutto in realtà so molto di più e quindi resto umile e le altre domande te le farò in un'altra diretta aspetta che c'è la aspetta ok eccomi qua c'è un attimo andata via comunque sì altre domande me le farai in un'altra abbiamo dei problemi ok io adesso ti vedo in movimento comunque no quello che mi è piaciuto è il continuare da parte mia a fare ricerca a guardare sempre più nel dettaglio e mai nel grande perché la differenza sta nelle piccole cose sia nella vita quotidiana sia nel nei comportamenti delle persone sia nelle opere d'arte sì questo è vero le apprezzi di più le conosci di più capito cioè almeno secondo me poi in generale ci sta comunque cioè ci deve comunque essere però approfondisci se dovessi cambiare una cosa nel mondo in questo momento cosa cambieresti? cambiare qualcosa nel mondo mamma mia ehm l'approccio che abbiamo con che abbiamo con con la natura circostante che è un problema assillante questo del cambiamento climatico quindi poi io alla fine come dire io mi rivolgo in realtà sempre all'umanità in un certo senso quindi per me deve cambiare proprio l'approccio delle persone cioè devono essere un po' più sensibilizzate dobbiamo essere più sensibilizzati a a quello che ci circonda quindi io cambiare questo il fatto di essere un po' più più sensibili un po' più umani un po' più meno meno robotici come posso dire un po' più sentimentali un po' più bambini ecco un po' più bambini vorrei più piccoli capi? io mi sono alzato solo in statura e mi è cresciuta la barba ma la testa è rimasta è solo apparenza va bene è solo un modo di presentarsi alle persone è un modo di allora adesso te hai visto le mie dirette precedenti vero? no stavo vedendo quella la oddio come si chiama Lauritano il cognome stavo intenzialmente Giulia ok adesso sai che ti abbandono per un minuto poi torno e tu fai quello che vuoi devo fare quello che voglio per un minuto metto un sacco di ansia questa cosa comunque perché non sono molto brava con i monologhi in generale però non so le persone che sono qui presenti spero di essere stata chiara nel mio discorso e che forse per gli altri 30 secondi non farò assolutamente niente no comunque niente sento un po' di disagio forse dirò soltanto no niente fondamentalmente spero che sia andata bene questa diretta spero che sia tutti quanti contenti se qua c'è qualcun altro che mi sta ancora guardando comunque niente voglio interessatevi un po' di più all'arte in generale perché è una cosa che tutti quanti stiamo ormai mettendo in secondo piano la situazione generale e basta se qualcuno vuole fare delle domande non mi ha detto niente metto un po' assaggiazione questa cosa e niente va bene dove è finito salve hai detto tutto sì ho detto tutto momento invadente questa me l'ha venuta in mente oggi pomeriggio e mosso cavoli tuoi io entro nella tua stanza e nella tua vita in questo momento tu prendi il cellulare ti metti nella posizione in cui come dovessi restaurare un affresco della cupola e mi fai un discorso di un minuto in quella posizione in che senso cioè tu sai come 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 sei messa perché di fatti te l'ho detto l'altro giorno ma ti ricordi come come fate a restaurare gli affresco no 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 quello è troppo comodo eh no devo pensare là sopra eh no no te devi praticamente sdraiarti per terra tenere il cellulare in posizione verticale aspetta lo prenderò anche sul letto dai ti concedo di metterlo no ma te ma va bene così sarebbe tipo così cioè io vedrei questo vedrei un bel soffitto giuro sto per te no però eh io devo vedere te è quello il fatto esatto così eh perché questo e poi mi fai un monologo di un minuto perché stai restaurando tu pensa che invece della mia faccia tu hai il l'affresco da restaurare cosa ti passa per la testa però le braccia ovviamente sono distese non sono così ecco esatto perché devi essere comoda come magari magari cioè mi trovo guarda se mi dove medesimare in un ponteggio mi troverei su qualche superficie molto più fredda molto più dura quindi mi farebbe mai la testa attualmente ma ancora di più comunque guardo l'opera e direi a quanti metri di altezza saresti ma no va bene allora dipende perché se si tratta di un'opera che non è sul soffitto un po' come nelle foto che hai visto stare così in realtà stare così comunque cioè stare così comunque l'impalcatura quanto è alta di solito vabbò ciao cioè l'impalcatura dal terreno è abbastanza alto non mi ricordo quanti metri seppero 5 metri cose del genere vabbè meno quelli che stanno in quel cantito dove sto lavorando io però ma come faccio ad arrivare così in alto comunque così in pratica stare bene così dovrebbe andare puoi tornare dove eri prima e basta ti stavi divertendo comunque va bene perché io non riesco a trovare una persona che mi dice no io non te lo faccio vabbè perché alla fine è una cosa che si può fare cioè senza non ci sono problemi nel farlo una cosa del genere ti metti via a terra in camera tua cioè non ho problemi nel farlo oddio non mi chiedere cose complicate povera infatti che mi combini hai letto il tuo amico che cosa ti ha scritto a me non dico non conosco bene il dialetto salernitano se no potevo dire una delle mie sconcerie in no no non lascia perdere non ti preoccupare tanto alla fine io manco so parlare il dialetto salernitano comunque e allora io lo capisco però non lo so parlare quindi tanto sono molto più straniera domani mattina mi alzo e e mi metto a lavorare sul pc cioè questa è la parte noiosa del restauro perché poi c'è la post produzione dopo quindi lavorare sul pc e fare tavole grafiche tavole tematiche per le relazioni da scrivere organizzare tutto tutto quello che si è fatto durante il tirocinio al museo archeologico questo farò domani mattina bello bellissimo ah e portare il mio cane fuori va bene ti do quest'altra cosa un po' più diversa portare il mio cane fuori sì hai una vita normale oltre a questo oltre a questo degli amici ho una vita sociale giusto per dire giuro va bene io ti ringrazio Maria Cristina ringrazio Maurizio Angelo aspetta chi c'è Maria Annalisa Picchio Tenace Rock Alberto e poi che hanno scritto che hanno cliccato Annalisa Susanna ah che c'era anche prima Piera Angelo Maurizio Alberto e Picchio Tenace Rock che hanno cliccato aspetta dimmi cosa no 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 non te lo dico perché grazie vi è da aiutare il suo sposto c'è anche ma di pazienti stasera ci sono ben due fotografe del fotoclub di Cento che non erano mai apparse in 433 chiacchierate bellificata no c'era un trio quando in un in un come si chiama in un programma tv che te non eri neanche nei sogni dei tuoi genitori che si chiamava Drive-In e c'erano tre che erano Napoletani o Salernita giù di lì comunque ed erano affigate e loro c'erano dicevano una parola che poi te la dico va bene era fortissima ma avevano solo quella battuta lì in tutto il programma no e quello mi è rimasto proprio il l'accendo di giù no vabbè spiegatene ringrazio tutti quelli che ci hanno guardato senza scrivere senza cliccare oppure tutti quelli che ci guarderanno da domani poi sul canale Youtube Miraggio di Lux o che vorranno soltanto ascoltarci sul podcast di Spotify puoi parlare te adesso ciao a tutti e bene ciao stiamo ricominciando la diretta no dimmi buono un'altra volta diretta no niente grazie a tutti che siete stati qui ad ascoltare quello che ci siamo detti buona serata a tutti quanti e buone vite ciao grazie ancora buonanotte a tutti grazie a tutti grazie a tutti